Casche e manganelli per chi si oppone! Valsusa! 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 In una tarda entra l'amministrazione a Milano, cercano di bloccare i binari alla chiamata dalla Valsusa, rispondono da tutta Italia. La strategia è unica, da Torino a Palermo, inceppare gli ingranaggi del paese, strade e ferrovie, eccoli a Napoli, sui binari. 40 città, la protesta contro la Tafo si salda con i tanti no, ci sono i movimenti dai centri sociali agli anarchici.